uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone da yee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi winterfest iniziato come vedete nella lobby sfide evento trovate le sfide di mezzo inverno la prima cerca calze natalizie nel capanno di mezzo inverno come si fa basta rimanere in lobby cliccare in alto a sinistra dove c'è la stella di natale visita il rifugio e la calza è esattamente quella presente qua dentro tenendo premuto e la va a scuotere la va ad aprire hai sbloccato una nuova sfida per mezzo inverno infliggi danni agli avversari con un lancio a palle di neve quindi ragazzi semplicissima da fare io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali e non dimenticate che ogni giorno ci sarà il video della soluzione per le sfide noi ci vediamo in live su twitch ciao